La crescita in Italia procede a ritmi lentissimi, come ha confermato nei giorni scorsi il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Alla vigilia del 1 maggio, festa dei lavoratori, la mobilitazione delle sigle sindacali entra nel vivo per tentare di dare risposte ai cittadini. Lo sviluppo è possibile, ma la situazione è allarmante. Ieri la CGL è a confronto con un dibattito nell'aula consigliare del comune di Noceano Inferiore a poche ore dalla manifestazione che si terrà proprio per le strade della città capofila dell'agro. Presente il segretario nazionale Vincenzo Scudiere, così come quello provinciale Franco Tovella, polemico con gli altri sindacati per l'assenza domani in piazza e il silenzio degli ultimi tempi. Il nostro paese si sta avviando verso un avvitamento nella crisi perché i dati ci dimostrano che aumenta la disoccupazione. Il tasso tendenziale che noi calcoliamo è del oltre il 18% e abbiamo i giovani e le donne, specie nel mezzogiorno, che sono ormai a un tasso che supera il 30% e raggiunge anche punte del 40%. Abbiamo tutti i settori in crisi, anche quelle aziende e quei settori in cui sembrava aprirsi qualche spiraglio come la chimica nazionale o come aziende anche della Campania, a partire dalla Fincantieri, nei prossimi giorni dimostreranno che non c'è molto spazio se il governo non fa le scelte adeguate, sia per sostenere la domanda e quindi investire nell'economia, investire nell'industria, sia se non sostiene la stessa offerta e se non cambia le regole del gioco per quanto riguarda il mercato del lavoro. Sarà un primo maggio di crisi ma sarà anche un primo maggio che vedrà una grande manifestazione a Nocera, vedrà delle manifestazioni promosse dalla CGL anche nel Cilento, ad Eboli, con un concerto e purtroppo a Nocera sarà un primo maggio promosso solo dalla CGL. Io me ne dispiaccio di questa cosa, il primo maggio è una giornata di festa, è una giornata che deve unire il mondo del lavoro, altre organizzazioni hanno fatto altre scelte, non vogliono stare a festeggiare con noi il primo maggio, a manifestare con noi il primo maggio nella tradizionale manifestazione che dura da decenni e decenni a Nocera, me ne dispiaccio e spero si possa recuperare.